Siamo con Pasquale Tirelli, presidente dell'associazione L'Arte e la Terra. Questa associazione, tra pochi giorni, apre la ottava edizione di Quattro Passi nella Rocca. Ecco, una mostra a mercato che appunto è all'ottava edizione, quindi si ripete negli anni, e quindi è pronta a replicare il successo degli scorsi anni. Ecco, cosa troveremo in questa mostra? Cosa troviamo? Niente, in questa mostra, oltre a visitare uno delle location più belle di Perugia, la Rocca Paolina, troveremo da varie regioni d'Italia delle eccellenze del territorio, che può essere l'anogastronomia, come l'artigianato che lavora alle pietre di Venezia, Morino, oppure il tartufo, prodotti tipici anche di Norcia, oppure una sezione dedicata agli artisti. Abbiamo due maestri cioccolatieri, uno proveniente dal Piemonte, uno locale, e quindi ci sono più di un motivo per visitare la Rocca Paolina nel periodo dal 23 aprile al 1 maggio. Ecco, la vostra associazione comunque è sempre attiva, c'è questa mostra a mercato, però propone anche altre iniziative. Qual è l'obiettivo principale della vostra associazione? Cioè, perché è nata? Cosa si propone di fare? Sì, l'obiettivo principale della nostra associazione è di rivutilizzare e riqualificare dei territori del Comune di Perugia, che è bellissima Perugia, lo ricordo sempre. Noi per esempio facciamo ogni terzo sabato del mese l'appuntamento Borgo Bellon Fiera, che si svolge Corso Cavour Alto, Scaletti, San Tercolano, sempre dedicato all'artigianato e alla piccola enogastronomia. Poi abbiamo vari appuntamenti durante l'anno, anche nei weekendi di ottobre. Ecco, noi tendiamo, il nostro scopo è riappropriarci di Perugia, creando queste piccole mostre a mercato e togliendole alla delinquenza. Ecco, noi riqualifichiamo le zone di Perugia. Quattro passi nella rocca si svolge in un periodo particolare, un periodo in cui c'è un grande flusso di persone e di turismo, quindi nella città di Perugia. Perciò può essere anche un'ulteriore attrattiva. Sì, noi abbiamo come frequentatori della nostra mostra a mercato tanti turisti che vengono da regioni limitrofe e anche da fuori regioni. Quindi, quattro passi nella rocca, è un invito, ormai sono anni e otteniamo sempre più successo, a venire a visitare Perugia e passando anche per la Rocca Paolina, ripeto che è una delle location più belle di Perugia. Grazie. Grazie.